Per Natale a voi le barzellette di Danilo, ciacchie! Allora c'è, il marito porta la moglie per un controllo dal medico perché c'era un po' dei malessere, era un po' dei giorni che si sentiva strana, no? Il dottore gli fa la visita e poi gli fa complimenti, sua moglie è incinta. Ma come è incinta, dottor? Ma io sono stato sempre attento a dover preservare io. È come nel traffico, tu sei attento e l'altro no.